Per tutto il pomeriggio di ieri i carabinieri di Trani, con l'ausilio di elicotteri e il supporto del nucleo cinofili e dell'antisofisticazione e sanità, hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio cittadino, controllando soprattutto esercizi commerciali, attività di ristorazione e luoghi generalmente frequentati da malavetosi del posto. E proprio nel corso delle operazioni è finito in manette un 33enne già noto trovato in possesso di 50 grammi di marijuana destinati alla vendita. I controlli eseguiti dai militari hanno permesso di denunciare altre tre persone. Il primo è un marocchino, titolare di una macelleria in via Bovio, dove gli operatori del NAS, durante accurate verifiche, hanno scoperto 42 kg di datteri dolci invasi dalle formiche, motivo per il quale è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria, il sequestro dell'attività commerciale e una multa di 3.000 euro. Altri due algerini, invece, sono stati scoperti in piazza Sant'Agostino vicino ad un'auto con numerose paia di scarpe in mano. Nel bagagliaio ne sono state scoperte altre 42 paia, griffate ma contraffatte. Per i due è scattata la denuncia per i reati di falso e ricettazione e il sequestro della merce. Nel complesso, durante il servizio, sono state identificate 55 persone, di cui 15 stranieri, controllate 43 auto e combinate tre sanzioni amministrative per violazione delle norme sull'igiene nei locali pubblici per la conservazione di cibi e bevande.